Buon pomeriggio, siamo qui con Castaldi, la partita è finita 0-1 per la Consalvo Calcio. L'espulsione di Descandi secondo te ha impulito tanto sulla partita oppure si poteva fare sicuramente di più? Ma si poteva fare sicuramente di più, sicuramente la motivazione per cui abbiamo perso non è stata l'espulsione di Descandi perché comunque era un centrale di difesa per carità, ci siamo sbilanciati ma comunque non è stato quello il motivo. Abbiamo poco sfruttato le occasioni che ci sono capitate e non voglio condannare tutta la sfortuna ma la colpa è solo nostra perché siamo entrati in campo con una mentalità sbagliata, pensando questi qua noi li ammazziamo, facciamo tre gol subito, invece no. C'è solo che è condannato a noi.